Ok Quanto entro oggi Sara? Sei... Promis... Promisqua Che tu stai dicendo? C'è, broma, io credo che sei sempre un telefone, però... Aspetta, aspetta Ce l'ho detto, ciao Quanto entro oggi? Mi sento che tra un po' finisce Dove vi mettete qui? Bravissimo E' che l'ha fatta I nei denti?